Buon ritrovate all'appuntamento con l'informazione di Finuse. In apertura di questa edizione la cronaca e l'arresto dei 13 extracomunitari che ieri si sono resi protagonisti della guerriglia al CPA di Pozzallo. Questa mattina in questura a Ragusa si è svolta una conferenza stampa nella quale è stato spiegato quanto è accaduto. Vediamo. Cinque carabinieri feriti, 13 immigrati arrestati, vetri e infissi nuovamente distrutti. Questo quanto accaduto il 22 agosto alle 3 di notte circa presso il centro di prima accoglienza di Pozzallo. La rivolta era finalizzata alla fuga. I cittadini, tutti di etnia tunesina, erano ospiti del centro in attesa di essere rimpatriati. Un tentativo di fuga in massa che avevano ben organizzato creando un buco di circa 50 cm nella struttura muraria con la testa del letto usata come ariete, il tutto con una coperta che ne doveva ammortizzare i rumori. Il tentativo è stato scoperto però dalle forze dell'ordine. Alcuni immigrati hanno smontato i letti a castello di ferro che si trovano nell'edificio ed hanno dato il via ad una rissa. Inveendo contro le forze dell'ordine. A farne le spese 5 carabinieri feriti in modo lieve trasportati all'ospedale maggiore di Modica dove sono stati dimessi. Distrutti anche i vetri e gli infissi della struttura. Nel contempo circa 55 immigrati erano fuggiti. 13 persone sono state però rintracciate e riportate al centro nella mattinata. Qualcuno è stato acciuffato nel pomeriggio. L'accusa loro carico e devastazione, saccheggio, lesioni personali aggravate e resistenza. Ieri mattina intorno alle 3 gli ospiti del centro di primo soccorso e assistenza di Pozzallo, 104 tunisini che erano giunti sulle coste italiane nei giorni scorsi, hanno dapprima tentato la fuga dall'ingresso principale del centro d'accoglienza che era presidiato da agenti, da polizia, da carabinieri e dai finanzieri. Dopo aver frantumato i vetri hanno creato un secondo punto di rivolta per dividere le forze e quindi avere il sopravvento sugli operatori di polizia. Il centro è attualmente ridimensionato, nel senso che la parte che ieri è stata oggetto di devastazione non viene utilizzata. Sono stati convogliati tutti all'interno della seconda sala che prima era destinata alle donne e sicuramente abbiamo tolto le strutture in alluminio che potevano costituire un ulteriore pericolo per gli operatori di polizia. Una prova non indifferente per il personale comandato di servizio ma affrontata in modo tempestivo e con elevata professionalità ed alto senso del dovere in un'ottica di sapiente collaborazione sinergica tra le forze dell'ordine. Un'operazione congiunta tra polizie di Stato, arma dei carabinieri e guardie di finanza un ennesimo gruppo di migranti che si era compattato. Una vera e propria strategia, quella messa in atto dai clandestini consapevoli del loro rimpatrio ormai attuato in tempi brevi. Ingenti i danni al centro, i cui locali sono stati completamente devastati e messi a soquadro. Al termine dell'operazione di polizia, 13 tunisini sono stati tratti in arresto, 40 sono ancora ricercati. Attualmente sono presenti all'interno del centro circa 55 persone, 36 delle quali sono arrivate in nottata. Il numero però è variabile perché il centro, nato come centro di soccorso, dunque non dotato di un sistema di videosorveglianza, ospita extracomunitari provenienti continuamente anche da altri centri d'Italia. E sempre a proposito di sbarchi di clandestini, la squadra mobile di Ragusa ha sottoposto al fermo di pubblica sicurezza di varie etnie, avvenuta a Pozzallo lo scorso 7 luglio. Nella giornata di ieri, personale della squadra mobile di Ragusa, unitamente alla squadra mobile di Bari, dopo un'intensa attività info-investigativa, susseguente a quella già espetata subito dopo lo sbarco, avvenuto lo scorso 7 luglio, ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla DDA di Catania nei confronto di otto extracomunitari. Si tratta di Mohamed Sayed, Mohamed Mohamed, Ismail Hassan, Alinoam, tutti e quattro egiziani, e di Abdelamed Abashi, Elashami, Ahmed, Mohamed Ali e Mohamed Hassan, libici. Gli otto extracomunitari sono gravemente indiziati del delitto di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e al fine di sottrarsi ai controlli previsti dalla normativa in materia vigente, hanno posto resistenza commiendo manovre pericolose, tali da creare pericolo per l'equipaggio operante. I sui indicati fermati sono stati rintrasciati presso il CIE di Bari Palese, e dopo le formalità di rito sono stati associati presso la locale casa circondariale, a disposizione dell'autorità giudiziaria precedente. E continuiamo ancora con la cronaca. Stanotte intorno alle 2 gli agenti della sezione volante di Ragusa hanno sventato un furto in una abitazione del capoluogo Ebleo, ma vediamo il servizio. Ancora una prova della tempestività della polizia di Ragusa. Gli agenti in servizio hanno infatti sventato nella notte un furto in un'abitazione del capoluogo Ebleo. Il tentato reato è stato messo in atto da due fratelli ragusani, Alessandro Licciardino di 20 anni e Massimo Licciardino di 24. I due giovani sono stati sorpresi intorno alle 2 dagli agenti della volante a passeggiare con una sbarra in ferro in mano in via Sanzio, angolo via Antonello da Messina. Insospettiti, gli agenti di polizia hanno lasciato l'auto di servizio nelle vicinanze per poi dirigersi a piedi nella via dove i due erano stati avvistati. E i sospetti si sono rilevati fondati. I fratelli stavano infatti tentando di forzare la porta di un'abitazione scardinandola con la sbarra di ferro. Colti dunque in flagrante, i due, dopo un improbabile tentativo di fuga per le vie limitrofe, sono stati bloccati dagli agenti e condotti in questura. I due malviventi, condannati a 4 mesi di reclusione e ad una sanzione pecuniare di 200 euro, si trovano ora agli arresti domiciliari. L'attività di prevenzione generale e controllo del territorio continua ed è foriere di molti risultati. È stato sventato un furto in abitazione la scorsa notte, in un'abitazione del centro ragusano. Due individui già conosciuti dalle forze dell'ordine per fatti similari tentavano di entrare all'interno di un'abitazione. La pattuglia volante che si trovava in zona ha capito questi movimenti e ha nutrito forti i sospetti nei confronti di due individui che erano armati di una spranga di ferro. Si è temporaneamente allontanata per poi ritornare e trovare all'azione i due individui, bloccandoli in flagranza di reato. Hanno tentato una fuga ma sono stati fermati qualche centinaio di metri dopo. A Marina di Raguse è stato evitato un disastro grazie all'intervento tempestivo degli agenti di una volante di polizia che, allertati da una segnalazione, si sono recati in via Tribastone dove le fiamme avevano ormai invaso un appartamento. All'arrivo lo scenario che si è presentato loro è stato allarmante. Le fiamme avevano inghiottito il piano terra dell'immobile e stavano minacciando di espandersi. A rendere ancora più preoccupante la situazione è stata la segnalazione della presenza di alcune persone all'interno dello stabile, bloccate dal fumo e dall'elevata temperatura. Non curanti del pericolo, gli agenti della polizia sono entrati all'interno del palazzo e hanno tratto in salvo 10 persone, tra cui un neonato. E continuiamo ancora con la cronaca e restiamo a Ragusa. Un incendio è scoppiato nel maxi capannone del Mercatone Italia di Viale dell'America a Ragusa la notte scorsa. Sull'episodio sta indagando la polizia per capire se ci sia stata un'origine dolosa. Un incendio è scoppiato nel maxi capannone del Mercatone Italia di Viale dell'America a Ragusa. Incendi e danni causati dal rogo. Due squadre dei vigili del fuoco hanno dovuto lavorare più di 7 ore per spegnere le fiamme che hanno completamente avvolto lo stabile, facilitate anche dall'afa e dal vento. Pare che le fiamme si siano originate dalle sterpaglie nei pressi del capannone. Il rogo comunque non ha provocato danni a persone o agli altri edifici. L'allarme è giunta al comando provinciale poco dopo la mezzanotte di ieri, pertanto si d'ingendio doloso si tratta. I piromini hanno agito in un'ora non troppo tarda quando la zona non era abbastanza trafficata. Sull'episodio si sta indagando per capire se si tratti di un incendio doloso. E torniamo a parlare della morte di Cinzia Vernuccio. Non sarà effettuata nessuna autopsia sulla salma della donna, che è morta per arresto cardiocircolatorio. Questa mattina si sono svolti i funerali presso il santuario della Madonna delle Grazie di Modica. Si sono svolti questa mattina i funerali di Grazia Vernuccio, la 63enne di origini modicane deceduta tra le braccia del marito. Nessuna nuova inchiesta, l'allarme scaturito dalle paure che si sono diffuse in questa lunga estate eblea colpita da numerosi lutti che a ragione o a torto sono stati attribuiti alla mala sanità nella nostra provincia, non hanno trovato fondamento nel caso della morte della donna, che abitava a Monza e si trovava in vacanza a Santa Maria del Focallo. Il marito, lo ricordiamo, l'aveva accompagnata presso la guardia medica turistica della zona dove il medico di turno, per calmare i dolori al ventre che accusava, le aveva somministrato un antispastico, consigliandole tuttavia di andare in ospedale per un controllo più dettagliato. Invece i coniugi sono tornati a casa, dove Grazia Vernuccio, espirata tra le braccia del marito, che disperato e attonito, ha avuto un crollo emotivo, tanto da essere ricoverato al maggiore di Modica per insufficienza respiratoria. Nessun caso di mala sanità, dunque, nessuna denuncia o autopsia. La morte è sopraggiunta con certezza per arresto cardiocircolatorio. E ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco.